Un angelo svela gli avvenimenti natalizi, una nascita e sull'evento poeti, scrittori e artisti hanno scritto, raccontato, creato, sacre rappresentazioni. Il presepio. Al Garden della cooperativa sociale Il Germolio, una rassegna di presepi d'autore. Ripropongono tra le architetture, tra gli spazi delle attività, la Santa Notte. Accolti del presidente Mariano Cobianchi, dal presepista Sergio Rossi, ci siamo fatti un viaggio lungo itinerari storici ai limiti del mondo, non limiti geografici, ormai ripercorribili, bensì culturali e motivi spirituali. Una ventina di rappresentazioni raccontano la storia che si srotola colma di personaggi, di luoghi diversi, paesi, con le case piccole, i muri sblecciati, balaustre e balconi, artigiani intenti ad antichi mestieri. La storia racconta la spicciola quotidianità. Il tempo, oltre duemila anni fa, non ha scolorito quello che i Vangeli e le leggende raccontano. Ciascun autore ha saputo cavare sotto i tumuli delle stagioni la storia e i suoi significati, il senso più vero del Natale. La mostra resterà aperta fino a metà gennaio, perché tutti i piacentini possono ritaliare nell'infinito divenire la più bella delle storie, la più chieta, il più dolce degli eventi.